Musica Musica Ben ritrovati qui sul canale Europa Sport per una nuova puntata di First Lap Oggi siamo qui per parlare del post Miami quindi analizzare tutta la gara e tutto il weekend di gara nella Formula 1 Io sono Alessia Musa e sono qui con il mio solito compagno e tecnico Antonio Medaglia Ciao Antonio Ciao Alessia e ciao a tutti e bentornati Allora siamo pronti per parlare di una gara che finalmente è stata una gara a dir poco emozionante direi Una gara molto divertente, ne vorremmo avere tante così anche perché l'asfalto questo weekend dell'asfalto ha aiutato la spettacolarità avevamo un degrado di gomme su quasi praticamente tutte le vetture quasi pari allo zero ha avvantaggiato ovviamente Ferrari, Red Bull e McLaren che già in altre piste dove il degrado di gomma c'era loro ne hanno risentito ancora meno Hai parlato di McLaren perché? Perché abbiamo visto questo weekend che finalmente ha vinto qualcuno che diciamo che aveva una nomina un po' particolare il ragazzo che è stato definito con più podi senza aver mai vinto una gara No Wins, finalmente non è più No Wins ma è Lando Norris che ha vinto il Gran Premio a Miami un grandissimo Lando Norris, possiamo dirlo? Un grandissimo Lando Norris, fortunato, la fortuna aiuta gli audaci, questo lo sappiamo ha fatto praticamente quello che fa sempre Verstappen l'ha fatto lui e l'ha fatto anche molto bene ha sfruttato quella che era la safety car e alla ripartenza non si è fatto prendere dall'ansia ma addirittura è riuscito ad andare via a Verstappen dandogli 7 secondi e mezzo praticamente dopo la safety car si può dire abbiamo visto tutta un'altra gara perché Lando Norris abbiamo visto la McLaren che soffre con le gomme rosse infatti in qualifica forse ha pagato tanto la qualifica la McLaren e non è riuscita a qualificarsi come doveva qualificarsi in pratica abbiamo visto nelle retrovie addirittura dietro Perez la gara poi ci ha detto un'altra cosa ci ha detto un Lando Norris superiore addirittura a un Verstappen in difficoltà con la sua vettura non trovava il bilanciamento non riusciva a trovare grip e infatti abbiamo visto un Lando Norris molto consistente e nei tempi sempre molto veloce e solido sì esattamente infatti dopo la safety car comunque abbiamo visto nel momento in cui la safety car è rientrata dopo neanche un giro già Verstappen non aveva più DRS sì esatto la forza di Norris è stata quella di levare il DRS Verstappen sappiamo quanto il DRS Red Bull sia molto potente apre l'ala e ti recupera anche quei 7-8 decimi così facendo ha dato lo strappo iniziale ha messo un secondo e uno un secondo e due in un giro e mezzo praticamente ha preso quel vantaggio quindi vero fortuna la safety car però comunque anche estrema bravura di Lando Norris che sappiamo essere un pilota molto bravo e sapevamo tutti che prima o poi questa vittoria sarebbe arrivata ci sta un po' di fortuna ma qual è il pilota che non ha un po' di fortuna perché se pensiamo per esempio a come è iniziata la gara abbiamo visto la fortuna che ha avuto Verstappen nel evitare un po' in maniera passiva una manovra un po' opinabile di Perez sì ecco vediamo le immagini infatti proprio una vera e propria dive bomb da parte di Sergio Perez praticamente è vero che i piloti appena vedono uno spiraglio si infilano infatti abbiamo visto la partenza della sprint del sabato come Hamilton ha visto un buco e poi si è creata una carambola che ha buttato fuori Norris tra l'altro e lì non è stato penalizzato perché è vero è stata una manovra molto pericolosa perché comunque ha fatto una vera e propria dive bomb è andato proprio lungo ha frenato lungo ma è anche vero che non ha causato danni non ha causato collisioni è andato infatti come si vedono dalle immagini è andato proprio al bloccaggio ha frenato proprio all'ultimo e non ha centrato Verstappen per questione veramente di centimetri le Ferrari che erano più indietro si sono salvate ma una dive bomb esattamente e infatti poi parleremo anche della questione penalità di come la FIA dà le penalità soprattutto ultimamente anche relativamente alla gara di Sainz ma vorrei chiederti a questo punto cosa è successo a Verstappen perché abbiamo appena detto che Verstappen dopo neanche un giro già era sopra il secondo parliamo appunto della ripartenza dopo la safety car e in questo caso è stata una debolezza della Red Bull oppure una grande forza da parte di McLaren che ricordiamolo portava il pacchetto maggiore di aggiornamenti proprio sulla macchina di Norris allora sì parliamo di due vetture che sono state praticamente sviluppate sono diciamo alla evoluzione della loro della macchina che hanno presentato a inizio stagione e infatti McLaren ha portato questi sviluppi a Miami con grande coraggio sapendo che è un weekend sprint avendo soltanto a disposizione una prova libera il venerdì tra l'altro hanno perso anche dei minuti per il purtroppo il testacoda di Leclerc che poi Leclerc è stato si è dovuto ritirare infatti nell'analisi dei tempi se la regia ce la fa vedere infatti vediamo proprio come la punta guardate lì dove si è fermato Verstappen ha perso un sacco di tempo Lando Norris addirittura prima della sosta prima della safety car era già davanti aveva accumulato 28 secondi e non avendo cambiato la gomma con la gomma gialla con cui era partito faceva dei tempi veramente veloci era veramente veloce era veramente costante senza traffico ed è lì che si è costruito poi quel diciamo quel minimo minutaggio quel tempo per stare davanti dopo la sosta infatti dopo la sosta si è fermato era primo è ripartita la safety ed è tornato primo infatti abbiamo visto come McLaren strategicamente sia stata superiore nel risultato della safety car ma dai tempi abbiamo visto proprio il grafico ce lo fa vedere dopo la safety car come Lando Norris era costantemente più veloce quasi mezzo secondo più veloce rispetto a Verstappen e poi abbiamo visto come a fine gara ha pagato Verstappen una cosa come sette secondi e mezzo non si vedeva dal 2018 una cosa del genere infatti lui stesso si è lamentato comunque che la macchina non aveva grip pare che appunto sulle hard la Red Bull non andasse poi così tanto bene oddio non andasse così tanto bene andava molto bene rispetto agli altri compiti è comunque una Red Bull guidata da Max Verstappen si una Red Bull guidata da Max Verstappen non riusciva a portare la vettura al limite come lui voleva non si sentiva sicura non aveva quel grip meccanico che la Red Bull riesce a generare in saccata non era ben bilanciata abbiamo visto appunto dalle dichiarazioni un felicissimo Lando Norris giustamente abbiamo visto anche quanto i piloti si siano congratulati con lui perché tutti sono o quasi comunque sono arrivati verso di lui l'hanno abbracciato il primo è stato Lewis Hamilton addirittura dalla macchina sì esatto che gli ha fatto l'applauso molto bello questo è veramente molto bello vedere quanto rispetto c'è tra i piloti in questo caso soprattutto perché sappiamo che Norris comunque è un pilota molto amato e riesce ad essere comunque amico con tutti e quindi veramente bello anche Alonso che è arrivato l'ha raggiunto direttamente in pista a piedi per abbracciarlo poi ho visto il salto di Norris stesso sulla sua squadra l'abbraccio con Andrea Stella veramente tutto molto bello ed emozionante meno emozionante però è stata come abbiamo visto la partenza di Perez e il fatto che non sia stato penalizzato perché Sainz chiedeva una penalizzazione che effettivamente è stata una manovra molto al limite l'abbiamo vista e non è stata secondo me altrettanto al limite quella di Sainz su Piastri è vero che forse era un po' frustrato dal fatto che era la terza volta che cercava il sorpasso e non riusciva a concluderlo però a fine gara la FIA ha investigato l'incidente e ha deciso di dare 5 punti di penalità a Sainz allora la decisione della FIA per quanto cattiva ma in realtà è giusta non è stato giusto sia non penalizzare Perez sia penalizzare ai noi purtroppo Sainz che perde una posizione proprio a favore di Perez questo perché Perez ha fatto una manovra come hai detto tu Alessia molto al limite però non ha causato diciamo incidenti non ha fatto danni ad altre vetture è vero una manovra molto al limite molto pericolosa però non ha causato incidenti non ha causato safety car non ha causato vetture che dovevano rientrare in box per cambiare qualche parte meccanica quello che invece purtroppo Sainz ha fatto ai danni di Piastri uno Oscar Piastri che aveva a metà degli aggiornamenti di Lando Norris però purtroppo nello scontro hanno valutato di aver danneggiato troppo la vettura infatti Piastri è dovuto rientrare poi ed era ultimo ha portato a casa anche il giro veloce tra l'altro e questo danno diciamo che questo danno è stato reputato dalla FIA di aver demonetizzato la gara di Piastri dare una penalità a Carlos Sainz di 5 secondi tutta la motivazione sta purtroppo in questo allora è vero però c'è anche da dire che sembra che la FIA vada a dare le penalità solo nel momento in cui succede effettivamente qualcosa perché se non ci sono conseguenze comunque il pilota può fare la manovra scorretta e cavarsela in ogni caso e questo non so quanto sia giusto tu che cosa ne pensi? allora sì non è giusto ma io non ritengo neanche giusto che a fine della gara cioè dopo la bandiera a scacchi si decida di dare 5 secondi di penalità il tempo per pensare per dare quella penalità c'era non eravamo negli ultimi giri mancavano se non sbaglio ancora una decina 12 giri prima del contatto per cui i commissari avevano tempo di pensare e dare quei 5 secondi di penalità che poi sono stati dati a Perez potevano darglieli prima magari della bandiera a scacchi e magari sapere di avere questa penalità Gardo Stainz andava meno in gestione perché aveva tanto di ritardo rispetto a Perez più di 5 secondi poco più di 5 secondi erano sui 4 secondi e mezzo 5 mi sembra e magari accelerava e riusciva a mantenere la sua quarta posizione forse questa è una grande mancanza da parte di comunicazione da parte della federazione esatto perché in effetti se la penalità ti viene data in gara tu puoi anche cercare di gestirti proprio per smarcare quei 5 secondi che ti vengono dati 10 secondi già magari ti sarebbe stato un po' più difficile però la penalità gli è stata data tra l'altro perché da regolamento una mossa del genere darebbe 10 secondi di penalità però avendo determinate attenuanti si può arrivare a 5 ed è quello che è successo a Science per esempio un altro pilota che invece ha ricevuto non poche penalità in questo gran premio è stato Magnussen un pilota un po' particolare diciamo soprattutto negli ultimi due gare e in tutto il weekend l'ass comunque quella di Hülkenberg è andata benissimo infatti un bravo Hülkenberg io lo direi perché comunque si dimostra sempre a punti in pilota sempre a punti con un ass che comunque è l'ass è l'ass l'ass e dobbiamo ricordarci anche che comunque ha già firmato un contratto per l'anno prossimo non avrebbe tra virgolette nulla da dimostrare perché il sedile per l'anno prossimo ce l'ha già anzi anche per più di un anno perché avendo firmato con Audi Audi sappiamo che entra nel 2026 l'anno prossimo ancora siamo nel 2025 e questa manovra che invece del compagno di squadra che ha favorito la vittoria di Lando Norris ha la resa più agevole secondo me se vogliamo dirla tutta ha reso più agevole avrebbe vinto comunque perché il passo gare era superiore e un Magnussen che secondo me ha la terra che gli trema sotto i piedi perché non ha ancora ricevuto il rinnovo dall'Asper l'anno prossimo un'altra scuderia invece che non è stata all'altezza forse in questo weekend di gara è proprio la Ferrari perché diciamo che se la safety car ha favorito Lando Norris ha un po' penalizzato la Ferrari invece oltre a vabbè 5 secondi di perdita per size segnali allora non è stato un weekend al mio modo di vedere un weekend dell'udente da parte della rossa perché ricordiamoci che dei top team è l'unica che ancora non ha portato sviluppi doveva portare qualcosa a Miami ma dato che c'era il Gran Premio il weekend sprint hanno ben deciso di portare tutto nel prossimo weekend di Molese qui in Italia per cui una vettura una Ferrari molto equilibrata che abbiamo visto sul circuito non lontana da Verstappen che per Ferrari è il primo da superare ed è il primo da raggiungere abbiamo visto una Ferrari molto costante peccato per Leclerc che nell'unica prova libera all'inizio subito al primo tentativo lanciato si va a girare in curva 16 e lì praticamente è costretto a scendere dalla macchia per un problema di surriscaldamento della frizione e deve abbandonare l'unica prova libera e abbiamo visto come poi sia in sprint race sia in quali nelle qualifiche che sia in gara abbiamo visto un Leclerc questo weekend davvero cattivo ha tirato fuori la cattiveria sia con Carlos Sainz sia nei sorpassi una costanza nella gara sempre sugli stessi tempi ma in un cedimento improvviso io reputo questa Ferrari molto più che sufficiente una Ferrari molto competitiva un Leclerc competitivo a differenza di un Carlos Sainz un po' più opaco in questa uscita a Miami un po' più in difficoltà non è riuscito a tenere il passo di Leclerc non è riuscito a superare Perez però poi causa la penalità è arrivato dietro ha causato un incidente con Piastri non riusciva a superare una McLaren ha avuto tanti problemi Carlos Sainz questo weekend a differenza di un Leclerc che secondo me a parte quella scivolatina nelle prove libere un weekend tutto sommato molto più molto positivo e ha fatto il massimo possibile sì è vero infatti se andiamo a vedere anche l'analisi dei tempi e il confronto tra Verstappen e Leclerc vediamo come nel secondo stint in realtà i tempi di Leclerc sono molto minori rispetto a quelli di Verstappen forse Leclerc è stato penalizzato dal fatto che la safety car sia uscita quando lui ormai aveva delle gomme più vecchie 10 giri infatti vediamo se vediamo grazie alla regia il primo picco che vediamo che è quello di Leclerc è proprio quando ha fatto la sostituzione gomma è passato praticamente dalla gomma media alla gomma dura il secondo picco che vediamo è praticamente quando è entrata la safety car Verstappen lì ha cambiato gomma e praticamente è riuscito ad avere quel vantaggio di 10 giri di gomma che ha portato Leclerc ad avere quei soli 2 secondi e mezzo di svantaggio rispetto a un Verstappen in difficoltà ricordiamo un Verstappen non al 100% con la vettura al 100% però non sono i canonici 10-15 secondi che si prendeva 7-8 secondi che si prendeva stavolta se ne è presi il buon Verstappen e Leclerc era lì vicino ricordiamoci una cosa fondamentale con una vettura non aggiornata aspettiamo gli aggiornamenti e se gli aggiornamenti vanno bene come Vasseur dice secondo me quest'anno tra McLaren Red Bull e Ferrari vedremo uno scontro al vertice davvero bello sono totalmente d'accordo chissà se secondo me forse portare gli aggiornamenti a Imola è un po' un'arma a doppetaglio perché può essere la soluzione migliore del mondo perché sei appunto giochi in casa come quella peggiore perché se poi alla fine va bene però sappiamo che con i se e con i ma non si va da nessuna parte quindi aspetteremo di vedere il gran premio di Imola per avere una risposta anche perché se in Formula 1 non rischi non ti lanci anche perché comunque sappiamo che nel 2026 ci sarà il cambio di regolamento però dobbiamo sempre lanciarci non dobbiamo rimanere aggrappati no va bene allora rimaniamo così dobbiamo continuare la Ferrari deve continuare ad aggiornare e sperare che questi aggiornamenti vadano bene a tornare indietro ci siamo sempre sì e chi invece a volte torna indietro a volte va un pochino avanti ma comunque non si smuove troppo da lì dov'è è la Mercedes che infatti non è stata messa tra dentro in lotta per le prime posizioni no la Mercedes ha ancora problemi ancora tanto problemi forse una delle poche scuderie che ha avuto problemi con il degrado gomme in una pista dove il degrado gomme era pari allo zero avevamo visto un George Russell davvero era in pista anonimo anonimo una gara anonima invece un Lewis Hamilton sempre vivace sempre pronto anche in Spring Trace ha visto un pertugio e si è lanciato una Mercedes che deve capire come sviluppare questa vettura Toto Wolff l'ha detto neanche Adrian Newey potrebbe risolvere i problemi che ci sono su questa V15 per cui secondo me sarà un 2024 tutto in work in progress per quanto riguarda la Mercedes forse vedremo uno spiraglio di luce nel 2025 2026 ma quest'anno secondo me più di metà classifica e non potrà andare vedremo infatti come proseguirà certo è che è un po' triste vedere una scuderia che ha vinto otto campionati mondiali che apre il DRS e non riesce neanche ad ottenere più di due chilometri orari in più sì infatti un effetto DRS che paragonato a quello della Red Bull c'è davvero un abisso tra l'uno e l'altro e tra l'altro dobbiamo ricordare che anche Mercedes ha portato dei piccoli aggiornamenti al fondo e non hanno funzionato come vorrebbero infatti nelle parole di Toto Wolff c'era anche un po' di delusione perché non riuscivano davvero a capire dove è il problema di questa manoposto ricordiamoci che loro sono partiti da un foglio completamente bianco quest'anno perché hanno ridisegnato la vettura ricordiamoci l'anno scorso lo Zero Pod non ha funzionato forse dovevano cambiare foglio bianco allora magari c'era scritto qualcosa all'inizio che non andava bene allora siamo quasi in chiusura e vorrei fare due piccole menzioni invece la prima ha una sprint race gareggiata in maniera magistrale direi da Ricciardo che sembra essere sempre in crisi eppure è arrivato quarto in qualifica della sprint e ha mantenuto con una visa che ha il quarto posto davanti a Sainz infatti Sainz come ti stavo dicendo prima forse un Sainz tanto in difficoltà anche col DRS aperto non riusciva a trovare quei 5-6 chilometri in più che gli permettevano di portare la staccata e di potersi passare a Ricciardo Ricciardo che ha fatto una gara molto pulita nel difendersi non da sottovalutare non come Magnussen non come Magnussen la differenza di Magnussen però Ricciardo anche costante durante tutto il weekend è vero che magari nella gara della domenica l'abbiamo visto meno presente ma comunque molto vicino al suo compagno di squadra una cosa non da sottovalutare perché ultimamente stava patendo tanto Yukitsunoda e invece questa volta gli è stato molto vicino diciamo che gli hanno dato dei piccoli segnali dei piccoli terremoti e lui ha risposto positivamente vediamo che magari prosegue allora questa sua salita verso qualcosa di meglio forse vedremo forse un'altra salita invece potrebbe essere quella dell'Alpine sì un'Alpine che abbiamo visto che ha portato un nuovo direttore tecnico dell'aerodinamica che ha fatto praticamente è stato tutto un meme possiamo dirlo così del weekend passava da Ferrari è andato in McLaren in McLaren ha fatto le foto di presentazione una settimana dopo Fonseca è stato presentato in Alpine se ne è andato forse giro una foto della difesa McLaren e i risultati si iniziano a intravedere ovviamente Alpine parte praticamente da dove partiva l'anno scorso la McLaren in fondo indietro e abbiamo visto che piano piano sta risalendo la china potrebbe essere dobbiamo tenerlo a molto d'occhio sia per Aston Martin che per Mercedes perché se la progressione che abbiamo visto a Miami che è stata positiva è questa potrebbe rientrare nei team di metà classifica sì certo comunque passiamo dal non riuscire neanche a sorpassare la sedicesima diciassettesima posizione a fare i primi punti che questo weekend Ocon è riuscito ad ottenere il primo punto per l'Alpine per quest'anno allora in conclusione ti chiederei e poi ti svelo i miei i tuoi top e flop allora io parto con i flop parto con George Russell ero indeciso tra George Russell e Carlos Sainz però Carlos Sainz più o meno è stato costante tutto il weekend qualcosina ha fatto invece Russell un weekend anonimo l'ennesimo weekend anonimo lui che deve prendere in mano le redini di questa Mercedes infatti abbiamo visto come un susseguirsi di notizie come Chimi Antonelli si è messo più volte sulla vettura in vista di prepararlo per la Formula 1 addirittura si vocifera già un ingresso quest'anno al compimento dei 18 anni su una Williams a posto di Logan Sargent che comunque è un altro uscente non lo possiamo mettere comunque flop perché comunque guida anche lui una Williams non competitiva come top invece ti metto Leclerc un Leclerc che ha iniziato a tirare fuori gli artigli un Leclerc che ha iniziato a dire al suo compagno di squadra sono io il primo pilota stai dietro infatti si è visto molto determinato molto cattivo infatti ha fatto una bellissima gara anche dopo quello scivolone in FP1 è riuscito a riprendersi alla grande e a mettere a tacere tutti forse proprio per via di quello scivolone ha detto no devo riprendere le in mano le redini e far vedere che io valgo e invece io come parto anche io dai flop e come flop metto Sergio Perez perché anche il buon cieco non è che abbia fatto una grandissima gara questo weekend vero che il Red Bull magari era un po' più in difficoltà rispetto agli altri weekend però l'inizio già con quella staccatona in cui ha rischiato di mandar fuori il suo stesso compagno di squadra diciamo che è stata molto molto al limite volevo aggiungerci una cosa infatti in qualifica si è preso mezzo secondo secco da Verstappen con la stessa vettura sì e invece nei top io metto vabbè Norris mi sembra un po' scontato però perché non metterlo un altro top invece è Hamilton perché appunto nonostante la macchina che si ritrova a dover guidare ha comunque una grandissima grinta e ancora tantissima voglia di vincere ricordiamolo che l'anno prossimo sarà il secondo quarantenne in gara oltre ad Alonso e Alonso è ben contento perché non sarà l'ultimo l'unico su cui si scherzerà in questo senso e comunque ha dimostrato appunto di voler ancora quel primo posto ha fatto una bellissima gara in rimonta e ha chiuso comunque sesto quando la macchina di solito non glielo potrebbe permettere ma buono per la Mercedes da metà classifica cioè non nascondiamoci dietro un dito i primi tre ormai abbiamo visto che sono Red Bull Ferrari e McLaren dopo dietro ci sono tutti gli altri si sta delineando anche la classifica piano piano esattamente che chissà come proseguirà la nostra puntata invece per oggi finisce qui non prosegue io saluto il mio carissimo e sempre fedele tecnico Antonio Medaglia ciao Alessia ciao a tutti io sono Alessia questo è Canale Europa Sport e questo è First Lab ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti